E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Si allarga coppola, lo segue anche Pugliese, Pugliese la mette di nuovo al centro, rete, rete, ha segnato Leclanese, 1-0 per l'Uomini del Tata Martino, ha segnato Tammaro, fitta Orefici, svarione difensiva, ancora Orefici la mette al centro, che cosa ha divorato? Leclanese, Pugliese, la palla per Tammaro, mette a terra Tammaro senza vedere, serve con un gran pallone della Valle, della Valle, palo di della Valle, alza lo sguardo Pugliese, serve al centro della Valle, ancora un miracolo di Stringa Alza lo sguardo, Tammaro fa segno di servire Orefici, lo serve, guarda a basso, ancora Orefici Ancora Orefici, ancora Eclanese vicino al 2-0, nelle mani di Napolitano, riparte Leclanese con della Valle Nella Valle è partito Orefici, ancora Orefici, dall'altra parte c'è Pugliese Orefici, Orefici, sempre dall'altra parte, sempre dallo stesso lato, ma non riesce neanche stavolta a portare sul 2-0 la propria squadra Eccoci per questa seconda frazione di gioco, parte subito con Garzone, Leclanese, rinvio in avanti, Grasso Ripartire, lo fa con Breglia, fuori gioco non chiamato Breglia, tu per tu col portiere Breglia, che cosa ha divorato il giocatore del Sant'Agnello A liberare Garzone, la palla per Orefici, è partito dietro di lui, Grasso, ancora Grasso, velocissimo Orefici, lo serve in questo momento Ancora Grasso, mette la palla al centro, Grasso non ci arriva nessuno, ci arriva però, sempre lui 2-0 delle Glanese, progressione come al solito di Orefici e ci ha pensato Pugliese questa volta a metterla dentro Amaro la mette a terra, ancora Tamaro, è partito a Volzone, lo serve Tamaro, ha definito Volzone, miracolo di Stinga, doppio miracolo di Stinga Intanto ancora l'Eclanese Coppola la mette al centro, Volzone di Tacco, che gol di Volzone Che gol di Volzone, 3-0 delle Glanese Sembra che ogni qualvolta veniamo noi a commentare la partita, uno delle Glanese segna di Tacco La scorsa volta contro la Palmese ci ha pensato Orefici, adesso ci ha pensato con numero 15, Volzone Finisce in questo preciso istante, Eclanese batte Sant'Agnello 3-0 Dopo 6-0 7-0 6-0 9-0 8-0 8-0 9-0 10-0 11-0 11-0 14-2 12-1 13 Grazie a tutti.